Pietro Mannoni, il segretario provinciale del Partito Democratico, tutto il PD è oggi intorno a Renzi, a questo treno per l'Italia che significa elezioni politiche. Indubbiamente oggi Renzi è qui con noi in provincia di Imperia per iniziare un percorso che ci porta naturalmente alle elezioni politiche. Siamo molto contenti che abbia deciso di essere presente sul nostro territorio perché significa che il Partito Democratico anche a livello nazionale si mette in collegamento con le realtà anche più lontane, con i territori. È un messaggio in vista delle elezioni politiche, un messaggio importante, diciamo che a seguito del percorso riformatore fatto dai governi a guida PD adesso c'è un percorso di dialogo con i territori importantissimo. Non a caso si parla di amministrazioni, autonomie amministrative locali, insomma un argomento delicato anche se vogliamo. Indubbiamente qui oggi insieme al nostro segretario nazionale Matteo Renzi c'è anche il ministro Marianna Madia proprio per parlare degli elementi principali della riforma della pubblica amministrazione tesa appunto a levare i lacci della burocrazia e a rendere l'amministrazione pubblica quello che deve essere, cioè un elemento in aiuto dei cittadini, vicino ai cittadini.